Un operaio di 43 anni Francesco Romano è morto sul colpo dopo essere precipitato questa mattina dal terzo piano di un edificio in costruzione ad Afragola in provincia di Napoli. L'enesima morte bianca in Campania 61 dall'inizio dell'anno è avvenuta in un cantiere tra i civici 39 e 41 di via Roma nel comune dell'area metropolitana. Toccherà ora ai carabinieri ricostruire l'esatta dinamica degli incidenti in cui ha perso la vita il lavoratore. Inutili tentativi di soccorso da parte dei colleghi prima e dopo il loro arrivo dei sanitari del 118. Romano era già deceduto al loro arrivo. Le indagini puntano a ricostruire la dinamica e dovranno far luce anche sulla posizione della vittima nell'organigramma della ditta incaricata dei lavori e inoltre chiarire se in quello stabile in costruzione fossero state adottate tutte le misure di sicurezza per i lavoratori. La vittima era originario del comune di Acerra.